I tornanti panoramici che portano al passo dello Stelvio affascinano da sempre i motociclisti che mirano almeno una volta a percorrerli in sella alla due ruote sottovalutando in alcuni casi i rischi che cela una strada di montagna. Sono infatti frequenti le cadute dei centauri lungo la strada statale 38, l'ultima che ha fatto temere il peggio per il motociclista alle 13 di oggi, venerdì 15 luglio, all'altezza del comune di Bormio. Protagonista a suo malgrado un centauro di nazionalità americana proveniente dal Texas. L'uomo di 53 anni stava scendendo in direzione della magnifica terra dopo aver superato il valico a 2770 metri di quota, quando ha perso il controllo della sua potente Kawasaki. Sbalzato dalla sella, forse a causa di una scivolata, il 53enne è stato travolto dalla sua stessa moto che gli è finita addosso. Immediato l'arrivo sul posto dell'elicottero del 118 decollato da Caiolo e degli uomini dei carabinieri di Bormio. Soccorso dai sanitari, mentre i militari si occupavano della viabilità e della ricostruzione dell'accaduto, il turista texano, di passaggio nella zona, è stato elitrasportato all'ospedale Morelli di Sondalo, dove gli è stata diagnosticata una frattura alla gamba a destra.